All'interno del nostro naso si trovano i famosi turbinati. I turbinati non sono un'escrescenza, una malattia, un nemico che è cresciuto nel nostro naso e quindi da tagliare, da estirpare come si faceva purtroppo in passato quando non se ne conosceva appieno la loro preziosa funzione. I turbinati svolgono un'azione di filtro, di riscaldamento dell'aria che ispiriamo, di condizionamento, di veramente una preziosa funzione di climatizzazione dell'aria, quindi sono delle strutture da trattare col massimo rispetto e soprattutto da non danneggiare. Cosa succede ai turbinati quando si ingrossano, diventano per così dire ipertrofici, come chiamiamo in gergo questa condizione? Succede che il ripetersi delle infiammazioni allergiche piuttosto che dei raffreddori, piuttosto che delle infezioni delle adenoidi nel bambino portano a un prolasso, a un ingrossamento, a uno slargamento del loro volume all'interno della cavità nasale. Sono delle escrescenze che normalmente dovrebbero essere posizionate nella porzione laterale del naso e quindi fornire un flebile ostacolo al flusso aereo che passa all'interno del naso per consentire quelle funzioni di umidificazione, di filtro, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria. Quando invece prolassano, in realtà perdono tutte queste funzioni così importanti e costituiscono solo un ingombro all'aria che passa con tutta una cascata di eventi negativi che porta alla sinusite per l'ostruzione dei canalini di drenaggio, alle adenoiditi per infiammazioni dell'adenoidi nella porzione posteriori e all'otiti catarrali, come abbiamo visto nella precedente clip, per ostacolo alla ventilazione della tuba di ostacchio, infiammazione del canalino di comunicazione che connette naso con orecchio. In questi casi in cui il prolasso, l'ipertrofia dei turbinati rappresenta una condizione cronica e quindi con i farmaci, con le moderne terapie che sono pure molto efficaci a base di spray nasale, a base di vaccini antiallergici, somministrabili per bocca piuttosto che direttamente all'interno del naso. Quando questo non è possibile recuperarlo, allora dobbiamo decidere di intervenire sui turbinati, ma intervenire vuol dire senza intervento chirurgico propriamente detto e come tradizionalmente intendiamo. Sono dei viceversa da preferire delle endoscopie operative con cui attraverso le radiofrequenze di terza generazione siamo in grado di rimodellare, di ridurre, di sgonfiare i turbinati, di smussarli senza rovinare la delicata superficie esterna di questi stessi turbinati che svolge quelle preziose funzioni di cui abbiamo parlato poc'anzi. Quindi siamo in grado un pochino come bucare un palloncino e sgonfiarlo della sua aria, preservando nella superficie mucosa, siamo in grado di recuperare un buon flusso aereo del nasino di bambini o del naso di adulti senza nessun traumatismo, senza necessità di posizionare i tamponi ed è sufficiente una singola applicazione, una singola seduta di 30 secondi, 40 secondi, un tempo inferiore al minuto all'interno del nostro naso struito per recuperare una piena funzionalità respiratoria e un buon benessere respiratorio che sarà duraturo, a patto naturalmente di continuare a correggere le condizioni che hanno portato all'ipertrofia del turbinato e quindi una su tutte le allergie. Ricordiamoci per concludere che i turbinati non sono solamente i turbinati inferiori, più noti a tutti quanti, ma abbiamo tre turbinati, talora anche quattro per ciascuna fossa nasale e l'ipertrofia, l'ingrossamento di queste mucose può coinvolgere molto spesso i turbinati superiori, la porzione più alta e quindi non trascurare ancora una volta nella diagnostica una corretta topodiagnosi, una corretta localizzazione di dove applicare la radiofrequenza onde incorrere in interventi non sufficienti e quindi in una insoddisfazione del paziente con persistenza della sintomatologia ostruttiva nasale.